Viale Marconi, importante arteria di Pescara, cambia faccia. Nuove rotonde, due corsie dedicate agli autobus e via gran parte dei parcheggi. I pescaresi meritano strade come quelle di Parigi e non come quelle di Baghdad, ha detto soddisfatto sui social il sindaco Carlo Masci. Ma gli esercenti che lavorano lungo Viale Marconi cosa ne pensano? Questi lavori sono sbagliatissimi da parte mia. Noi siamo un'attività da 40 anni e questi lavori che stanno facendo qua, la carreggiata a quattro corsie, due per gli autobus e due per le macchine, per me, per tutti i negozianti di via Marconi è una cosa negativa. Noi stiamo tutti i giorni qua, a parte che io non capisco nulla. Una corsia autobus affiancata al marciapiede, l'altra invece a metà, noi siamo preoccupati. A parte questo non abbiamo nemmeno un piccolo parcheggio per noi, né per noi per un attimo fermarsi, perché comunque svolgiamo un servizio importante, la gente che lavora, non può fermarsi un attimo. Ma non solo noi, la farmacia. Come fa un anziano a parcheggiare, non lo so, sotto il ponte o che ha la stazione, dove? Non ci sono parcheggi. I parcheggi perché qua non si potrà scaricare, non è previsto solo qualche parcheggio dall'altro lato, ma è per i disabili. Non è solo per noi, i disabili, chi ci abita, il carico e scarico. Qui c'è le attività commerciali, se mi arriva il camion per scaricare, io non lo posso far scaricare qua. La gente che si deve fermare un attimo per una sosta, un negoziante, qualunque attività, va via. Ti dico la mia, non ci stiamo capendo più niente. Non per parlare bene, non per parlare male. Ci svegliamo la mattina, c'è una rotatoria. Ci svegliamo la seconda mattina, non c'è più. Non entro nel merito dei lavori perché non sono né un tecnico, né un pratico dei lavori. L'unico problema che stiamo riscontrando tutti noi commercianti, credo che sia chiaro, è quello dei parcheggi, quello della mancanza dei parcheggi, della cancellazione dei parcheggi. Mi auguro che questa soluzione che hanno trovato non sia deleteria anche per l'incolumità delle biciclette, dei pedoni stessi. La risposta, c'è stata una riunione, il sindaco ci rideva in faccia. Questo mi ha fatto veramente male. Questa notte non ho dormito perché essere così trattati da una persona che fa politica, che dovrebbe fare il bene comune, non è accettabile. Noi stiamo qua, paghiamo le tasse, stiamo qua, ci allaghiamo. Non lo so, noi siamo preoccupati. Non sappiamo nemmeno come... è ancora chiusa, ma quando si apre non sappiamo nemmeno come sarà il traffico. Attendiamo che vada in porto, come dice il sindaco, la nuova Parigi col mare di Pescara e tendiamo fiduciosi, anche se di fiducioso credo non ci sia nulla.